buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscolo oggi ragazzi rispondo ad un signore che mi chiede che mi fa delle domande sul pessimismo distruttivo se esiste un audio mp3 personalizzato per il pessimismo distruttivo naturalmente realizziamo l'associazione i prologi associati il sottoscritto degli audio mp3 dcs su richiesta che però non sono accessibili a tutti per vari motivi ci ho detto per eliminare il pessimismo distruttivo puoi usare come ha fatto questo signore no depressione molto controllo dei nervi no stress ed eco entusiasmo poi se vuoi fare dulcis in fondo puoi mettere anche scaricarti no passato negativo e no ansia no panico se li metti tutti insieme segui le istruzioni della lettera tu veramente ti trasformerai da pessimista in un ottimista costruttivo senza senza ma ecco cosa succede alla mente allora perché una persona è pessimista vede tutto nero e vuole distruggere tutte e tutti perché da piccolina e da piccolino sicuramente nel nostro subcosciente sono entrate quelle immagini di qualcuno mamma papà parenti amici il terzo genitore che la tv e naturalmente nel corso della nostra vita sono state rafforzate sottolineate evidenziate dalla nostra ripetizione h24 che è diventata radice convinzione come le radici della quercia che arrivano fino alle viscere della terra del nostro subcosciente che cosa fare per uscirse primo eliminare tutte le situazioni negative e pessimiste eliminare la tv soprattutto la tv pessimista negativa che ti mostra una parte della vita perché siamo tutti di passaggio ragazzi non è che qualcuno rimane su questa terra ci ho detto non vuol dire che per il fatto di essere di passaggio dobbiamo pensare tutto male o tutto brutto tutto negativo tutto pessimista per cui terza cosa allontanare chi parla in maniera pessimista avvicinare delle persone eliminare i famosi vampiri di energia poi se vuoi accelerare il tutto ti scarichi un audio mp3 dcs oppure più audio mp3 dcs come ad esempio no depressione no stress molto controllo dei nervi ego entusiasmo che vi dà un'energia incredibile poi no passato negativo e no ansia no panico e ti posso garantire che la tua vita cambierà 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 se solo se seguirai alla lettera le istruzioni la prova di un nonno la prova di un piccolo la prova di un idiota in più il metodo dcs l'ipnosi dcs con la v maiuscola non ti ruba tempo non non ti impegna non chiede il tuo prezioso tempo né quello del tuo caro perché funziona anche per chi non vuole il tuo aiuto per cui che ti importa seguire alla lettera le istruzioni molto facile la prova di un nonno la prova di un piccolo la prova di un idiota tantissime persone centinaia e centinaia di persone nel mondo hanno eliminato questo modo di vedere la vita questo pessimismo che vuole soltanto distruggere questa diciamo tra virgolette rabbia interiore che si trasforma proprio in qualcosa di negativo continuando gutta cavat all'apidem con gli audio dcs l'ipnosi dcs vera e professionale anche senza le sessioni online con il sottoscritto e chiaro momento sono sospese di ipnosi dcs vera e professionale soprattutto su skype ma anche su altre app in qualsiasi parte del mondo in cui risiedi per cui io ti sto dando una mano per risparmiare un botto di soldi oppure se proprio non ce la fai puoi anche sederti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona e iniziare un percorso però ti posso garantire che con l'ipnosi vera e professionale tu elimini cancelli spegni e fast dicono in francia il tuo pessimismo distruttivo fammi tutte le domande del caso non ti arrendere non hai bisogno né di audio mp3 dcs personalizzati al momento prendi quelli standard che sono molto potenti naturali e senza nessun effetto collaterale perché l'ipnosi dcs non ha nulla a che vedere con l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da film e neanche con la stessa ipnosi conformista e commerciale pur ottima di milton elx brian weiss e deve ok zero secondi zero secondi del tuo tempo per risolvere il tuo problema visita il sito internet www.ipnologiassociati.com visita la mia fanpage su facebook ipnosi avuto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesso del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici parenti perché può essere quel qui della molla famosa che ti cambia la vita a te il tuo caro anche se non vuole il tuo aiuto non può avere il tuo aiuto e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cesso il dottor claudio saracino un bacio un abbraccio da questa giornata soleggiata che distrugge il pessimismo distruttivo aggiungo questa chicca anche a metterti al sole a camminare guardando il sole negli occhi o il cielo è un'altra tecnica per eliminare il tuo pessimismo distruttivo fidati funziona e te lo dice un mentore e non un guru un bacio un abbraccio alla prossima ciao 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 ciao